Dalle 10 di questa mattina la galleria di Monte Saraceno sul tratto della statale 89 Garganica da Manfredonia mattinata è di nuovo transitabile. L'anas è stata di parola e dopo aver messo in sicurezza il tunnel lo ha di nuovo reso percorribile. Un bel regalo sotto l'albero di Natale per le popolazioni del Gargano, costrette per lunghi mesi a deviare sulla vecchia e tortuosa panoramica. La galleria resterà aperta H24 fino al prossimo 6 gennaio. Dal 7 gennaio all'8 febbraio chiusura notturna dalle 20 alle 6 e 30 dal lunedì al venerdì.